Alice è una copywriter che si occupa di scrivere testi sia per aziende che per professionisti e in particolare si occupa di testi sulla formazione. Oggi ci parla di come superare il panico da pagina bianca, che non è solo il foglio bianco, ma molto spesso è il nostro bel WordPress tutto vuoto e oddio cosa scrivo. Lascio la parola a lei. Grazie. Allora, beh, innanzitutto io approfitterei, se siete tutti d'accordo, di fare un grande applauso a queste magliette gialle che si stanno dando da fare affinché l'evento sia perfetto. Vi dico anche un'altra cosa, che è la prima volta che mi trovo a parlare di fronte a un pubblico così denso, quindi facciamo che vi dico da subito che se a un certo punto parte la voce o mi impapero, vi chiedo scusa da subito. Allora, come ha detto Simona, io sono una copywriter, quindi sostanzialmente mi occupo di creare contenuti di marketing, contenuti che girano sia in campagna di marketing online che offline. E quindi mi capita di scrivere testi per siti web, testi per landing page, testi per articoli di blog, testi per newsletter, ma anche testi che poi vengono stampati su carta. Quindi libri, guide, advertorial e quant'altro. Allora, molti dei miei clienti si trovano nell'ambito della formazione, come ha detto Simona, ma in realtà nell'ultimo anno, anno e mezzo, mi sono trovata a scrivere per circa una trentina di settori diversi, ok? Perché vi dico questo? Non per gasarmi, questo in realtà è, diciamo, è pane quotidiano per un copywriter, ok? Ma perché molto spesso i clienti mi chiedono come fai, ok? Come fai a scrivere? Tanti tipi di contenuti diversi per settori, prodotti, servizi diversi. Come fai ad avere sempre l'idea e il contenuto pronto? Vi dico la verità che non è così, cioè, ora riesco a gestire bene questa cosa, ad avere più o meno sempre chiaro che cosa scrivere, ma all'inizio non è stato assolutamente così. Dovete sapere che quando io ho cominciato a scrivere, ero dipendente di una web agency, mi ritrovavo spesso in questa situazione, ok? Quindi, vuoto assoluto, non so cosa scrivere, non trovo un'idea. Considerate che comunque lavorare all'interno di una web agency significa che oggi devi produrre, boh, 10-20 mail per un cliente che vende pannelli fotovoltaici. Domani devi produrre 5-6 articoli per un cliente che vende, che ha un ristorante. Dopodomani devi produrre uno script per un video di un cliente che vende corsi di formazione, ok? Quindi panico, panico totale. E, tra l'altro, quanti di voi si sono trovati, almeno una volta nella vita, di fronte a un foglio bianco che non sapevano come riempire? Dai, dai. Fate i timidi, ok? Va bene, non vi preoccupate, non siete soli. E quello che cercherò di fare nella prossima mezz'ora è di darvi qualche dritta, ok? Qualche chicca, per trovare subito un'idea, qualunque cosa vogliate scrivere, anche se non siete degli specialisti di quel settore lì. Quindi vedremo innanzitutto che cosa cercano davvero le persone all'interno dei nostri contenuti. Poi vedremo cinque idee per scrivere contenuti che funzionano e, alla fine, vi svelerò una tecnica proprio scientifica per produrre un piano di contenuti che partono anche da una singola idea. Se non vi fosse chiaro, parleremo di contenuti, ok? Ma mettiamo un po' di puntini sulle i. Che cosa intendiamo per contenuti di marketing? Contenuti di marketing sono contenuti che hanno tre caratteristiche, tre obiettivi principali. Innanzitutto informano, quindi sono contenuti utili, si spera, interessanti e rilevanti per le persone. Secondo punto, intrattengono, ok? Attenzione che molte volte si confonde l'intrattenimento con il divertimento. Sono due cose diverse. Perché è ben chiaro che se stiamo vendendo sedie in pelle, il nostro obiettivo non è quello di far divertire, ok? Contenuti che intrattengono sono contenuti che affrontano un tema, magari noto, con un taglio o con un'idea originale rispetto a tutto quello che si sente in giro. Ok? Terzo obiettivo, i contenuti di marketing vendono. E mi vorrei soffermare un pochino su questo concetto. Quando scrivete un contenuto o producete un contenuto, non necessariamente dovete vendere un servizio o un prodotto, ok? Molte volte potete semplicemente cercare di vendere la vostra idea, il posizionamento della vostra azienda o i valori della vostra azienda, ok? Vi voglio anche raccontare un piccolo aneddoto che a me è successo personalmente, per farvi capire bene che cosa intendo. Circa un paio di mesi fa stavo cercando un avvocato, ok? Niente di grave, avevo bisogno di far sistemare alcuni contenuti, cioè alcuni contratti per dei clienti e avevo un paio di nomi in testa, professionisti che forse potevano darmi una mano. Comincio a cercare su Google e atterro su questo, mi sembra forse una pagina Facebook, di questo professionista veramente assurdo, un piano di contenuti di marketing perfetto. Quindi post bellissimi, interessantissimi, scritti da Dio, con le immagini bellissime e tutti instagrammabili, ma vi giuro che nei successivi 20 minuti di navigazione io non sono riuscita a trovare un numero di telefono, dove chiamarlo, un indirizzo mail dove poter scrivere, un form di contatto, niente. Ok, che cosa ho fatto? Sono andata dal suo diretto competitor. Quindi, perché è veramente importante che i vostri contenuti di marketing vendano? Per un motivo, che se non lo fate voi lo sta facendo qualcun altro. Quindi, siccome immagino che non siate una multinazionale con un budget di marketing che tende a più infinito, nel momento in cui scrivete dei contenuti, fatelo per voi e non per i vostri competitor. Vi faccio una domanda. Ok, secondo voi, così, quello che vi viene in mente, qual è il vero motivo per cui le persone leggono un blog? Ok, cercano informazioni. Scusami. Ok. Per passione. Ok, sì. Scusate. Per informarsi. Per informarsi. Va bene. Ottimo. Bravi. Madonna. Ne sapete? Ok. Tutto quello che avete detto è verissimo. Bravi. Ma il vero motivo per cui le persone leggono un blog, ma io sto parlando di blog e in realtà mi riferisco a qualunque tipo di canale, potrebbe essere un canale YouTube, piuttosto che una serie di mail, piuttosto che un personaggio, un forum, ok. Qual è il motivo per cui vi legate veramente a un canale, a un contenuto? Il motivo è questo, ok? Che sotto sotto una parte di voi vuole sentirsi compresa. Se voi ci fate caso, non so, pensate a un programma TV, un programma radio, un libro, un blogger, un blogger che vi piace veramente. Molto probabilmente quello che lui scrive e che dice risuona in un modo particolare all'interno di voi, ok? Molte volte magari avete l'impressione che quello che dice, cioè voi leggete e dite cavolo questo qua mi conosce perfettamente, mi sta spiando, sta parlando di me, ok? Quindi questo è veramente il passepartout che rende il vostro contenuto un contenuto di successo. il fatto che le persone si identifichino completamente in quello che voi avete scritto. Ora, anticipo un'obiezione che di solito ricevo a questo punto, che è, sì ma io, cioè bello quello che dici, brava, però, sai, io scrivo per un settore differente, scrivo per un settore difficile, sai, io vendo, non lo so, pezzi di acciaio piuttosto che blocchi di marmo, per dire. Tra l'altro mi è capitato di scrivere anche per queste cose. E come faccio io a fare content marketing su questa roba? Non è divertente, non è, non è, non ha pillo, ok? La verità è che non esistono settori che non si prestano al content marketing per un motivo preciso, che se voi avete un'azienda, offrite un servizio come professionisti e fatturate, l'azienda sta in piedi, guadagnate, funziona tutto. Questo è perché risolvete almeno un problema di qualche persona, ok? Almeno uno. Quindi se proprio non sapete da che parte partire per fare marketing, partite da qui. Quali problemi risolvete alle persone? A quali persone? Già qui. Come dicevo prima, in realtà, sì, parlo di blog, ma non mi riferisco soltanto al blog, ok? Cerchiamo di utilizzare quanti più canali abbiamo a disposizione. Ovviamente lo facciamo in modo intelligente, ok? Non spammando lo stesso contenuto ovunque. Però, perché utilizzare tanti mezzi, piuttosto che ad esempio soltanto il blog, soltanto la mail, soltanto il video. Per tre motivi. Quindi, numero uno. Diamo più possibilità ai nostri utenti. Io sono convinta che anche all'interno di quest'aula ci sono persone che preferiscono leggere la mail, ci sono persone che preferiscono guardare i video, ci sono persone che preferiscono leggersi un libro, cioè in formato cartaceo, ok? Diamo alle persone la possibilità di scegliere. Secondo motivo. Ricordatevi, e qui mi riferisco in particolare a copywriter e chi crea contenuti, ricordatevi che voi potete scrivere l'articolo più fenomenale, più figo del mondo e potete pubblicarlo ma una volta che lo pubblicate, cioè se una volta che lo pubblicate muore lì, state pur sicuri che non dicono che non l'ha letto nessuno, ok? Però non raggiunge il 100% dell'audience che potrebbe raggiungere. Allo stesso modo, se voi inviate una mail, scrivete la mail proprio definitiva, ok? La inviate a un database di 100 persone, ok? Non la leggeranno mai 100 persone. Quindi non sprecate il contenuto, va bene? Riutilizzatelo all'interno di altri canali. Ma c'è un terzo motivo che è il più importante di tutti secondo me, che se ci pensate bene, l'obiettivo strategico del marketing di contenuto qual è? È cercare di raggiungere quante più persone in momenti della giornata differenti. Ok? Quindi tenete in considerazione anche che ad esempio un contenuto audio che va su un canale podcast si presta molto bene ad esempio al mattino quando una persona è in macchina va al lavoro accompagna i figli a scuola quello che fa è semplicemente appunto ascoltare quest'audio. Un contenuto video semplice veloce magari è una cosa che le persone fruiscono boh mentre aspettano l'autobus il tram mentre cazzeggiano su facebook un libro invece un contenuto che magari uno si legge boh la sera sul divano quando c'ha dieci minuti liberi ok? Quindi proprio per questo motivo cerchiamo di di testare strumenti diversi non non abbiate paura ok? veniamo alla ciccia ok? Quindi vediamo le cinque idee sempre valide per scrivere dei contenuti come vi dicevo queste questo spizio è tratto da insomma vita vissuta quindi queste sono per me le cinque idee in realtà sono sei se non sbaglio poi quando ho fatto le slide ne ho aggiunta una queste sono le le cinque idee le sei idee che a me hanno sempre salvato la faccia ok? per non dire altro con i miei clienti nonostante non fossi esperta in materia di nessuna delle cose per cui ho scritto quindi primo post come fare per ok? vi ho messo l'immagine di Aranzulla perché lui è proprio il re e lui ha fatto i milioni semplicemente con un blog in cui in cui spiegava come fare le cose ok? quindi post informativi che spiegano come fare qualcosa passo passo e questo si può applicare a un sacco di cose veramente a tutto praticamente quindi da come scegliere le scarpe da running a come ristrutturare i bagni evergreen recensioni questa è una tipologia di post di contenuto che si adatta bene ai settori in cui ci sono molte innovazioni molte novità ok? quindi quando escono le novità del settore nuovi prodotti nuovi modelli fate post di questo genere ok? ho trovato un esempio carino che era se mangiate spesso in ufficio questo è un articolo per voi abbiamo provato 12 contenuti scusami 12 contenitori porta pranzo ok? le schiscette per capire se ne esiste uno migliore degli altri ok? ora è chiaro che se voi non mangiate in ufficio non ve ne frega niente di questa roba qui però sono sicura che qualcuno di voi io faccio qualche donna andrà sicuramente a leggere un articolo di questo genere perlomeno ci dà un'occhiata va a vedere interviste anche questo è un asso nella manica veramente potente se scrivete di settori particolari ok? in cui ci sono però dei riferimenti molto autorevoli ok? utilizzateli andate lì gli chiedete di potervi concedere un'intervista ok? vi dico questo perché il fatto di intervistare qualcuno che è autorevole per quel settore vi consente di rubargli un pezzettino della sua autorevolezza ok? come se lui vi desse un po' della sua fama diciamo ok? automaticamente diventate un po' autorevoli anche voi e qui c'è un esempio fantastico di Luca Mazzucchelli ad esempio che è un bravissimo psicoterapeuta che a sua volta pur non avendo bisogno di autorevolezza perché è già una persona autorevole a sua volta intervista Giorgio Nardone che è proprio un psicoterapeuta conosciuto italiano conosciuto a livello internazionale fatelo ok? non vi serve intervistare il presidente della repubblica basta semplicemente che la persona che intervistate sia riconosciuta come autorevole all'interno del vostro settore dalle persone che vi leggono ok? queste invece le obiezioni dei clienti sono il post passepartout che vi salverà per sempre la faccia quando non avete idea di cosa scrivere quando non avete proprio non vi passa proprio un'idea per l'anticamera del cervello prendete le obiezioni dei clienti ok? qualunque cosa stiate vendendo cercate di raccogliere i dubbi e i timori che le persone hanno quando si approcciano a questi servizi questi prodotti come fare? esiste una tecnica meravigliosa che è chiedete fate così prende allora dovete scrivere di qualunque cosa prendete vostra mamma vostro babbo i fratelli i zii i cugini la nonna gli spiegate brevemente di che cosa si tratta ok? e poi gli fate la seguente domanda gli chiedete ma se tu fossi interessata ad acquistare questa cosa qui per quale motivo cioè quale motivo ti limiterebbe dall'acquistare cioè per quale motivo non acquisteresti ok? in questo in questo modo otterrete esattamente le motivazioni che le obiezioni dei clienti ok? per cui le motivazioni per cui il vostro prodotto rischia di non essere compreso capito ok? e quindi neanche venduto un altro bellissimo spunto sono i casi di studio ok? quindi quando ne avete raccontati in retroscena di casi di studio sia positivi che negativi ok? quindi come sfruttare con efficacia facebook per un'irboristeria per dire anche nel caso in cui i casi di studio sono negativi ok? quindi abbiamo testato x abbiamo scoperto che x non funziona quindi abbiamo concluso che in realtà y va bene? anche questi sono contenuti che le persone leggono veramente funzionano veramente bene e poi le storie le storie sono uno dei più potenti strumenti di marketing che avete ok? quindi raccontate la vostra storia se siete i professionisti e vendete voi stessi oppure raccontate la storia dell'azienda per cui state scrivendo magari la vostra azienda quali difficoltà avete superato e perché questo vi ha resi la miglior soluzione rispetto a qualcun altro ok? Giunto a questo punto probabilmente vi starete chiedendo qual è questa famosa tecnica scientifica che vi permette di produrre quantità di contenuti enormi semplicemente partendo da un'idea ok? quindi è questa la tecnica del maiale super scientifica ve l'avevo detto e la mia nonna diceva sempre del maiale non si butta via niente ok? ma anche del contenuto non si butta via niente perché perché è beccato ok? vi faccio ve lo spiego insomma con un esempio pratico mettiamo che voi scriviate un articolo di blog ok? vi siete impegnati tantissimo avete fatto un contenuto di cui siete fieri soddisfatti lo pubblicate non succede granché non ricevete troppo riscontro ok? è un peccato fermarsi lì è un peccato buttarlo via lasciarlo morire lì va bene? quindi potete ad esempio prenderne un estratto costruirci un post su facebook potete riassumerlo se non è troppo cioè se è lungo all'interno di una mail magari poi rinviare il contenuto stesso potete creare delle infografiche se questo articolo contiene dei dati delle statistiche potete recitarlo davanti a una telecamera e farci un video dal video potete estrarre l'audio creare magari un canale podcast perché no? oppure quando raggiungete un gran numero di articoli sul vostro blog potete sistemarli all'interno di un libro o ancora potete semplicemente stamparne qualcuno metterli all'interno di una brochure di una newsletter cartacea stamparla e inviarla ai propri clienti perché no? in realtà le combinazioni tra tutti questi strumenti sono infinite ok? potete partire dai video e farli sbobinare trarre articoli potete non so partire dalla mail fare un post su facebook e poi rimandare un articolo ok? ci sono infinite variabili addirittura potete non so partecipate a una convention partecipate a una presentazione registratevi ok? perché quello è contenuto che poi vi potete riutilizzare per un sacco di di occasioni diverse siete al telefono con un cliente ok? non vi dico registrate la chiamata però utilizzate il contenuto di quella telefonata per magari scrivere un articolo per girare un video perché no? ricordate comunque che del vostro contenuto non si butta via niente questo è quello che vorrei che trasmetteste cioè quello che vorrei trasmettere a voi ok? io ho finito le domande volevo chiedere ero interessato al discorso cioè tutto ottimo ottimi spunti quello delle interviste dicevi che con un dobbiamo fare un'intervista a una persona autorevole nel settore ecco io volevo chiedere che convenienza può avere quella persona a concedere un'intervista per esempio a me che non sono famoso grazie beh è una buona domanda eh di base nessuna a meno che non gli diamo un motivo tu ok? dipende veramente che tipo di persona è ok? magari è una persona che conosci tu direttamente o non necessariamente ok? eh probabilmente anche la tua audience potrebbe essere utile in qualche modo a questa persona qui perché no? ora non vi dico di arrivare a stringere una partnership per una semplice intervista però in realtà accade anche questo ok? magari avete dei clienti in comune che potete in qualche modo condividere hai una lista di persone iscritte al tuo blog o alla tua newsletter puoi condividerla con lui ok? di base ti dico la verità per una semplice intervista eh è difficile che qualcuno ti chieda qualcosa in cambio però comunque puoi dargli un sacco di motivazioni per per concedertela lo stesso basta che tu pensi a che cosa potrebbe essere importante per lui ottenere da te che cosa puoi offrirgli tu sostanzialmente spero di aver risposto ciao intanto grazie sempre sulla tecnica del maiale per esempio mi rendo conto che ho scritto un articolo sul mio blog che non ha non è andato bene quanto ha senso per esempio riscriverlo con un altro tono per esempio appunto riformularlo in modo diverso se l'ho scritto per esempio perché hai bisogno di questo invece riformula in un altro tono o viceversa un articolo che è andato molto bene però per esempio è molto lungo quanto ha senso nello stesso blog riscriverlo magari in forma più ridotta per esempio o farne due parti ok grazie bravissimo questa è un'ottima domanda allora tu mi chiedi se ha senso o no in realtà se ha senso o no te lo dice solo il mercato ok chi legge se quel contenuto funziona ha senso se no no ok però di base a quello che hai detto tu è un ottimo spunto perché a volte mi è successo di pubblicare articoli o contenuti in due forme diverse ok quindi magari un articolo era sotto forma di boh perché succede questo lo stesso articolo poi è stato riportato in quattro motivi per fare questo avevano ottenuto due conversioni completamente diverse quindi succede ok quello che ti consiglio è di testare come dici tu se un articolo è molto molto lungo ed è anche di conseguenza molto difficile trattenere il lettore fino alla fine spezzalo ok fai due contenuti fai degli approfondimenti se hai un articolo con dieci step per fare questo e magari non ha funzionato spezzali fai non ti dico dieci articoli diversi ma magari cinque ne prendi due alla volta ok quindi non c'è limite veramente a quello che puoi fare con il tuo contenuto grazie ho una domanda per te dimmi come allora tu prima dicevi tu prima hai mostrato diverse cose però dal tuo trucco non si è capito se questo metodo qua che hai detto è fatto solo per vendere prodotti quindi tutta la parte relativa al marketing o se questi suggerimenti sono utili anche per un normalissimo blog quindi senza scopo di vendita o comunque senza scopo di vendita diretto non è che faccio questo articolo per venderti un prodotto magari faccio questo articolo per voglio semplicemente per l'articolo in sé poi se ti piace magari c'è merchandising queste cose qua grazie ok quindi se ho capito bene mi stai chiedendo se questi suggerimenti sono validi sia quando devi vendere che quando non hai prettamente uno scopo di vendita ok sì perché no ok io ti ho parlato di marketing di contenuto perché è quello che faccio io sostanzialmente e perché diciamo che quando tu vendi qualcosa hai cioè quando crei un contenuto che vende qualcosa hai un diretto riscontro se funziona o meno ok se hai venduto più o meno ha funzionato se no no e puoi farlo benissimo anche con contenuti che non sono di marketing quindi non per forza che hanno uno scopo di vendere assolutamente fai dei test divertiti qualche altra domanda arrivo grazie grazie ti volevo chiedere come perdonata la voce quasi assente come gestisci nel lungo termine l'esigenza di magari scrivere per un settore molto ristretto nel senso i consigli che hai dato sono sicuramente ottimi anzi grazie a te il problema che per esempio non capita spesso è che comunque devi farlo per molto tempo parli di un'azienda che fa un settore tu parlavi di cubi di marmo e questo magari lo devi fare per due anni tre anni e quindi come gestisci diciamo questo tipo di questo aspetto se per te è una cosa che può rientrare in quei consigli che hai dato se ci sono delle altre cose ok grazie sì ovviamente sì io non ho la pretesa di essere sicuramente esaustiva con cinque consigli va bene quindi probabilmente se devi partire da capo non sai cosa scrivere queste cose qui possono esserti molto utili in realtà se hai un piano di contenuti annuale ok puoi comunque metterti a fare un lavoro del genere ma devi avere più dati a disposizione più informazioni la cosa che io non ho avuto diciamo non ho inserito in questa presentazione perché altrimenti avrei parlato per altri due giorni e mezzo è che comunque un copywriter quando scrive fa tanta ricerca fa tantissima ricerca ok quindi nel momento in cui tu cominci una collaborazione lunga con un'azienda hai bisogno di trarre quanto più quanto più informazioni quanto più materiale per quello che stai scrivendo a volte a me è successo di aver esaurito tutte tutte le idee e di aver preso essere andata una due giornate direttamente in azienda ok quindi a parlare con i manager a parlare con i dipendenti a parlare con i clienti mi sono fatta passare davvero le telefonate con i clienti mi sono fatta passare qualunque tipo di materiale ok dalla brochure al lo script di vendita dei venditori per dire perché in realtà puoi trarre molta ispirazione anche da quello che succede offline ok un'altra cosa che puoi fare è aprire google e fare una ricerca di tipo seo quindi sulle parole chiave che riguardano quel settore lì di base non è un lavoro facile però è questo assolutamente sì assolutamente sì scusa io sono qua lui chiedeva la ciclicità dei contenuti ok perché sì in realtà noi non ce ne rendiamo conto ma questo succede in qualunque ambito ok ad esempio prima ti parlavo di formazione ok se tu guardi i più anche i più grandi formatori che esistono in Italia ma anche nel mondo oserei dire i copywriter delle aziende che cosa fanno ciclicamente riutilizzano il contenuto ma non ripeto copia e incolla ok riutilizzano magari un concetto un contenuto che era inserito all'interno di quella mail ok lo agganciano magari a una cosa che è successa una notizia di cronaca di ieri ok quel contenuto lì è stato comunque riutilizzato ok ti ripeto non si tratta di copia e incolla non stiamo parlando di quello grazie qualche altra domanda secondo te è meglio fare un piano un planning mensile o settimana o annuale questa è una buonissima domanda allora io di solito procedo così mi mi cioè intendi per i blog ok ok io di solito con i clienti preferisco andare su contenuti mensile no perché un mese è troppo poco per vedere anche il riscontro che hai che ha il tuo lavoro quindi di solito io parto dai sei mesi in poi mai meno e questo ti consente di avere un piano di contenuti anche di garantirti insomma del lavoro continuativo però strutturare dei piani annuali cioè io devo stabilire adesso di che cosa parlerò tra un anno io non ci riesco ti dico ti dico la verità secondo me sei mesi sono abbastanza buoni lasciando magari dei buchi improvvisioni dei quali tu prevedi di inserire dei contenuti magari come dicevo prima di notizie real time grazie ciao ciao una domanda sul diciamo la gestione dei contenuti in generale ormai i blog magazine vengono sempre più usati per un discorso anche di indicizzazione su google e di keywords volevo chiederti prendendo come esempio il post sulla schiscetta che avevi fatto molto emozionale però ovviamente totale assenza di keywords indicizzabili immaginando che quel post fosse su un sito di un produttore di schiscette o cose di questo tipo non era un post mio ok giusto come esempio volevo chiederti come vai a diciamo fondere la parte emozionale con la parte più tecnica quindi di utilizzo delle keywords che a volte è forzata ok ti faccio una domanda sei un SEO anche ok no no perché c'è una grande diatriba sul copywriting sul SEO copywriting esiste non esiste come si fa ti dico la mia ok qual è l'obiettivo di un contenuto di marketing ok qual è l'obiettivo di quel di quel articolo sulle schiscette probabilmente di vendere magari con non so qualche affiliazione qualche partnership di vendere quella tipologia di prodotti lì ok quindi il fatto che tu magari produca un bellissimo articolo cioè bellissimo un articolo perfettamente indicizzato perfettamente diciamo ottimizzato lato SEO ok ma poi di fatto acquisisci del traffico su quell'articolo ok perché se molte persone lo vedono probabilmente ci cliccano entrano anche ma poi quell'articolo di fatto le persone si perdono ok non arrivano alla fine non arrivano alla conto action non convertono sì quell'articolo lì tecnicamente è perfetto ma raggiunge l'obiettivo forse no ok la grande diatriba del copy ok è proprio questa portare traffico su un articolo non è non è garanzia che quell'articolo poi funzioni va bene quindi per come la vedo io io sinceramente molti articoli lato seo perfetti mi rompo le scatole dopo dalla terza riga ok perché se tu mi ripeti la stessa keyword alla seconda riga ho già capito dove vuoi andare a parare ok quindi o io sono veramente molto molto interessata a quello che mi stai dicendo a quello che mi vuoi vendere altrimenti non lo so ok spero di averti risposto in modo molto diplomatico poi se vuoi parliamo di seo copywriting fuori ok grazie mille Alice grazie mille